Gloria al Signore vi benedica, ci troviamo qua nel centro di Milano per predicare il Vangelo, questo Vangelo Alleluia perché Gesù ha detto, dobbiamo predicare in ogni luogo, dove ci troviamo la seminata in tempo e fuori di tempo, Gloria al Signore, Amen Gesù Cristo è l'unica speranza, abbiate fede anche voi, credetene al Messia, non perdere la tua anima benedetto il suo nome, Alleluia, Giagio che Debei Gesù Cristo è il Salvatore, Gesù Cristo è il Messia, Gesù Cristo è l'unico che può liberare, salvare, Gloria al nome Suo Fratelli e sorelle pregate per quest'opera, perché quest'opera è da Dio, quest'opera nessuno la può fermare e la può bloccare perché il Signore, Gloria al Suo nome, ci ha fatto dei Suoi discepoli, come Gesù mandò i Suoi dodici a predicare in ogni luogo, perciò fratelli, noi che abbiamo conosciuto Gesù e siamo i Suoi discepoli dobbiamo annunciare la Sua salvezza di giorno e in giorno, dice la Bibbia nei Salmi è scritto, Amen, Alleluia a Dio, tutta la Gloria, pregate che il Signore ci guidi stiamo qua con mia moglie che sa che lei vuole lasciare un messaggio, un saluto amore ancora, nel primo a usare il mio marito, che non sia lui a parlare a queste anni, ma allo spirito, pregate per me anche che si rovedia la forza per i miei figli e per questa opera, soprattutto per il bisogno di crescere per queste anni, perché io possa toccare i cuori e sciogliere questi cuori di mie, perché per fede io lo credo che saranno toccati, pregate anche voi, il saluto e la pace di Gesù. Amen, gloria al Signore, Amen, fratelli pregate, intercedete, che il Signore ci guida, a Dio tutta la gloria. Amen, gloria al Signore, avvicinatevi al Vangelo. Credete, credete in Gesù Cristo, che la via, la verità e la vita, Gesù Cristo è l'unico Salvatore, Gesù Cristo è l'unico che può salvare la tua anima, il Salvatore c'è, si chiama Gesù Cristo anche per lei, credi nel Messia, non credere in una religione, credi nel figlio di Dio che versò il sangue per te. non perdere la tua anima, non perdere la tua anima, non avere quel cuore duro, quel cuore di pietra. Gesù Cristo ha detto, me, voi tutti che siete stati, siete stati, siete stati, certi di noi, hai la tua anima, la tua anima, cerca di tu, che può dare il riposo alla tua anima. gloria al Signore, oggi tanti persone cercano il riposo per la medicina, si prendono le gocce, ma poi l'alora anima è sempre lo stesso, la tristezza nel cuore, Gesù vuole Gesù Cristo. Gesù Cristo, la luce del mondo è Gesù Cristo. Cristo, cari Gesù ha detto, io sono la luce del mondo, dimmi sempre, non resti nell'eterno, se tu non hai Gesù nel cuore, nel tuo cuore c'è l'eterno, nel buio, se tu non hai Gesù nel cuore, nel tuo cuore c'è il buio, c'è la tristezza, c'è l'angoscia, ma io ti voglio dire Gesù vuole darti la pace, Gesù vuole togliere la tristezza nel cuore, vieni da me, vieni da me, vieni da te, amico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.